Musica Lunedì 5 settembre, buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione di Tene Molise in Regia questa mattina Donato Mignogna. Almeno 9 milioni di italiani sono a rischio povertà energetica e il Molise rientra tra le cinque regioni in cui questo rischio è tra i più alti del paese. L'allarme è dell'ufficio studi della CGA di Mestre che prevede un autunno particolarmente difficile. Il servizio di Anna Maria Di Matteo. I prossimi mesi saranno particolarmente difficili per le imprese e le famiglie italiane. Dopo i danni provocati dalla pandemia, di cui paghiamo ancora le conseguenze, arriva ora l'emergenza energetica che mette a rischio almeno 9 milioni di italiani. L'allarme è dello studio realizzato dalla CGA di Mestre sugli ultimi dati disponibili, peraltro sottodimensionati perché stimati molto prima dello shock energetico scoppiato in Italia a partire dalla seconda metà del 2021. A livello geografico la situazione più critica è quella del mezzogiorno. Qui la povertà energetica è la più elevata d'Italia ed interessa tra il 24 ed il 36% delle famiglie. E la Campania in termini assoluti la regione è maggiormente in difficoltà. Il Molise rientra tra le 5 in cui la situazione assume gli aspetti della vera emergenza. Campania, appunto, Sicilia, Calabria e Basilicata, con oltre 46 mila famiglie a rischio e la frequenza della povertà energetica è considerata alta. L'aumento esponenziale dei prezzi delle bollette previsto per il prossimo autunno potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione economica di tantissime famiglie, soprattutto di quelle composte da lavoratori autonomi, su cui i rincari pesano due volte, come utenti domestici e come piccoli imprenditori. Negli antichit delle famiglie vulnerabili spesso rientrano quelle con un numero elevato di componenti che risiedono in abitazioni fatiscenti con un capofamiglia giovane, spesso inoccupato o immigrato. Il governo sta correndo ripari, introducendo numerosi interventi, tra i quali i bonus sociali, ma non è ancora abbastanza, come ha sottolineato Paolo Zebeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA. A causa di una crisi energetica senza precedenti, nel prossimo inverno tante famiglie, molte delle quali con a capo un lavoratore autonomo, non avranno acqua calda e termosifoni accesi. Il governo intervenga subito per aiutare chi è in difficoltà, se occorre anche attraverso lo scostamento di bilancio. Ne va della tenuta sociale del Paese. E siamo alla cronaca, è finita a Termoli la fuga di Mirko Tammaro, il presunto assassino di Andrea Gaeta, il ventenne ucciso ad Orda Nova. Il 26enne, talonato dai carabinieri, ha deciso di costituirsi. Secondo una ricostruzione dell'accaduto, il presunto omicida avrebbe visto la propria ex in compagnia di Andrea Gaeta e per questo motivo lo avrebbe ucciso con alcuni colpi di pistola. Sarebbe dunque questo il movente. L'indagato sarebbe scappato verso l'Abruzzo in direzione Termoli, dove, dopo aver sentito i familiari e gli inquirenti, questi ultimi ormai alle calcagne avrebbe deciso di costituirsi. L'arma gettata nelle campagne durante la fuga è stata ritrovata e sequestrata. Al momento l'ipotesi di reato configurata è quella di omicidio volontario, nonché detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Bonefro ricorda la strage dell'8 luglio 1944, quando quattro bambini morirono dopo aver manipolato una mina. È stata inaugurata la lapide monumentale, per non dimenticare un episodio che ha segnato la storia. Ce ne parla Andrea Nasino. Un intero paese si è stretto intorno al culto della memoria, che mai deve morire nel cuore e nel sapere dell'io. In via Piazza Grande, a Bonefro, alle spalle di Palazzo Agostinelli, dove l'8 luglio 1944, a seguito dell'occupazione tedesca, morirono ben quattro bambini per aver manipolato una mina, è stata inaugurata la lapide monumentale, per non dimenticare una strage che all'epoca mutolì l'intera comunità. Con una cerimonia solenne si è ricordato il tristissimo episodio. Un altro gruppo di ragazzi riuscì a salvarsi solo per miracolo. Due dei sopravvissuti sono stati segnati dalle ferite per tutta la vita. Tantissimi erano i bambini che in quegli anni frequentavano quest'angolo caratteristico del paese. Un lungo corteo, guidato dallo stendardo della locale sezione dei bersaglieri, dopo aver superato l'arco d'accesso a via Piazza Grande, ha raggiunto il luogo della memoria più dolorosa. Presenti le autorità comunali, i carabinieri della locale Caserma, il parroco del paese, tanti giovani e un bel gruppo di anziani che ricorda ancora non pochi particolari raccolti dai racconti di famiglia. È stata una ragazza, dopo aver deposto alla base della facciata di pietra una composizione di fiori bianchi, a scoprire la lapide ricoperta dal tricolore della bandiera italiana. Dopo la benedizione, il parroco Don Luigi si è soffermato sul valore etico, civile e religioso di una lapide. Il sindaco Nicola Montagano ha ricostruito nei dettagli lo svolgimento del triste episodio. Il primo cittadino ha espresso tutta la sua gratitudine al professore Luigi Pizzuto e a Vaccaro e Guadagni che assieme al comune di Bonefro, con la sistemazione della lapide monumentale, sono stati i protagonisti di una interessante pagina di storia a favore di una memoria di alto profilo educativo. La memoria non è solo un deposito di contenute e di conoscenze, la memoria è la stampella dell'intelligenza, indica il cammino verso il bello, la gioia di vivere, il rispetto reciproco e il bene comune. E con la prima edizione del Tg è tutto, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal giornale del Molise, la politica, le elezioni in evidenza, Caterina Cerroni del PD ad Agnone dice Gli attacchi alla povertà sono irricevibili, bisogna riformare la sanità. E ancora, avete sentito povertà energetica, Molise a rischio, l'allarme è della CGA di Mestre, coinvolti oltre 9 milioni di italiani. Boom di turisti a Capracotta, parla il sindaco Paglione, soddisfazione ma bisogna superare il problema della carenza di personale. Ci spostiamo a Campobasso, lavori in prossimità di scuole e università non ancora ultimati, arriva la denuncia del consigliere comunale, Mario Annuario. Andiamo a vedere l'apertura, è la prima pagina di primo piano Molise che si occupa di sanità, stop radioterapia, lo scontro diventa politico, clima rovente. Nola del Movimento 5 Stelle accusa, dice il centro-destra, gestisce la sanità tra degrado e inefficienze. Cefaratti replica, dice sei ipocrita, hai infangato privati e gemelli per cinque anni. Intanto stamane Toma dirà la sua, Castrataro è preoccupato, colpo durissimo, dice Presidio a Campobasso. Le altre notizie, andiamo a vedere, basso questa di cronaca, Orta Nova uccide a colpi di pistola il figlio di un boss, arrestato a Termini, lo avete sentito anche nel nostro TG, dopo l'omicidio, il ventenne è fuggito in Molise e avrebbe agito per ragioni sentimentali. Stiamo a centro pagina, il Pozzilli, il cibo industriale fa male, questo dunque lo studio del Neuromed, aumenta il rischio malattia. Di spalla la politica, siamo a riccia, candidati PD in piazza, dicono conosciamo di più e meglio il territorio. A Diserni adesso copiose macchie di sangue sul marciapiede dopo il sabato bravo, mistero fitto sull'accaduto. E ancora da Campobasso, nuove strisce pedonali, ma niente ingorghi, operai al lavoro di notte. Fondo pagina c'è un'intervista dal Molise ai vertici di Mondo Tondo. Giulio vince la scommessa sul turismo, poi dice lo spopolamento, rivitalizziamo i borghi con gli stranieri. Giulio Sanzone, figlio del più noto Luigi, presidente della banca delle province molisane. Il punto oggi porta la firma di Pasquale Damiani, banco di prova per le regionali. In alto lo sport, il calcio, Termoli e giallorossi vanno K.O. a Pineto. Buona prova, ma troppi errori difensivi. Si parla del vasto Girardi, esordio con sconfitta contro il Chieti. Non basta, Hernandez gol. Fine la Coppa Italia regionale, sorprese, Trivento e Montenero, si qualificano tutte le favorite. Passiamo adesso al quotidiano abruzzese, il centro fuoco nel locale, caccia al piromane. Siamo a Pescara, si parla dunque di questo incendio doloso. Le telecamere filmano l'autore. Altre notizie su in alto, Abruzzo verso il voto, Berlusconi collegato in video, da la Caric a Pagano e Sospiri. Le altre notizie, scuola, niente mascherine e via libera ai professori Novax, le nuove regole in Abruzzo. Intanto oggi a Pescara e Montesilvano, i primi rientri. A fondo pagina questa notizia di cronaca, bimba morta ha sentito il parroco. Ricorderete la vicenda di Avezzano, le indagini sulla tragedia dell'Altalena. Nuovi particolari, anche un altro piccolo ha rischiato la vita. Ora i quotidiani nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera. Scintille su Russia e tasse. Salvini dice, sanzioni attenti ai danni, Meloni non ci sfiliamo. Letta parla di irresponsabilità. Siamo a Cernobbio, sfida tra i leader, Calenda vince la gara degli applausi, poi lo scontro con Tagliani. Conte intanto dice, via l'Irap. E di spalla leggiamo quest'altro titolo, Mosca minaccia, sta cominciando la grande tempesta. L'Unione Europea replica, non ci fermiamo. Passiamo adesso a Repubblica. Russia, Salvini resta solo. Arringa del leghista contro le sanzioni. Proteggiamo l'Italia, è stato detto. Tagliani alza i paletti, seguiamo l'Europa. Meloni non ci sfileremo. E studia un assetto del futuro governo con i ministri di fede euro-atlantica. Tanto Letta aggiunge, fratelli d'Italia deve rinunciare a quella fiamma nel suo simbolo. Dunque il segretario PD torna ancora sulla questione del simbolo della fiamma, sul simbolo di fratelli d'Italia. Da Repubblica alla stampa, Putin scateno la tempesta. Meloni Salvini, lite continua. La minaccia del Cremlino dopo l'annuncio della stretta europea. Nord Stream non riapre. È del gasdotto. I due leader a Cernobbio con contrasti su gas, sanzioni, debito e recovery. Altra notizia, siamo a quella di spalla. Se per il consenso si truccano anche i numeri dei migranti, c'è una polemica sulla questione appunto dei migranti. Passiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Uno su due contro le sanzioni. Tutte le bugie di Draghi e compagni. Il Quotidiano di Travaglio parla di autogol. Salvini cavalca in no alle misure flop antirussia che danneggiano noi. Chiudiamo anche il Fatto Quotidiano per vedere l'argomento d'apertura della verità. La Germania aiuta aziende e bollette. Noi no e diventeremo terra di saldi. Berlino dunque lancia un piano da 65 miliardi per evitare blocchi produttivi e una montagna di insoluti che farebbero fallire le utility. Mattarella ha invocato l'Unione Europea. A quel punto il sistema Italia sarà fuori mercato e preda estera. scrive ancora la verità. Più in basso il centro-destra si riprenda l'agenda etica. Il teologo Nicola Bux invita la coalizione a esprimere posizioni più ferme contro il pensiero unico senza temere per i voti. C'è un'intervista esclusiva su Libero la vediamo subito. Marta Fascina deputata di Forza Italia dice le traditrici il capo di Draghi e la guerra parla Lady B. Marta Fascina mi occupo di difesa e vi dico che il conflitto si può fermare. Altri titoli italiani evasori non tanto c'è un report dell'Università La Sapienza il nero è di 15 miliardi non 100. Da Libero al quotidiano romano il tempo la Lega contro le cartelle fiscali in arrivo 4 milioni di notifiche Salvini ne chiede il blocco per evitare la stangata il piano del carroccio sconti sui debiti con l'erario a chi ha l'isee fino a 40 mila euro aiuti anche alle imprese riduzione delle somme dovute se sono in crisi di liquidità Il mattino di Napoli sarà tempesta globale la Russia minaccia ulteriori ritorsioni sul gas giovedì il piano di aiuti del governo si parla anche del vertice di Cernobbio il leader a confronto su tasse e PNRR di spalla giù dal balcone sei indagati per le minacce nella chat oggi la prima svolta nell'inchiesta sul 13enne suicida a Gragnano e ancora più in basso Clochard ammazzato spunta la pista shock quella del battesimo del fuoco siamo a Bagnoli una esecuzione in stile Gomorra delitto in strada per provare la pistola i PM molti hanno visto e non parlano dal mattino al secolo d'Italia Meloni a Cernobbio cambiare il PNRR non è una eresia poi a fondo pagina Letta definisce Ungheria e Polonia Europa di serie B e sui migranti incredibili le parole della Lamorgese a Cernobbio ricordiamo Lamorgese il ministro dell'interno poi ancora un focus sulla beatificazione di Papa Luciani Albino Luciani il Papa breve proclamato beato da Bergoglio adesso lo sport sulla gazzetta Milan Mondiale Cardinale parla Cardinale i programmi del nuovo numero uno abbiamo una visione chiara e un obiettivo la squadra ai vertici d'Europa e del mondo e Pioli rimane in testa intanto Inter e Juve non ci siamo polemiche e paure aspettando la Champions sotto accusa difesa e Big casa Inter Inzaghi vuole subito la svolta Juve manca il gioco Allegri criticato chiede pazienza e dice arriviamo intanto c'è il crollo della Roma giallorossi travolti dall'Udinese per 4 reti a 0 andiamo a vedere altre discipline sportive titoli sotto la testata Bagnaia fa poker la rimonta continua e il MotoGP quarta vittoria di fila con la Ducati Formula 1 Leclerc Podio Amaro Verstappen padrone la Ferrari sbaglia con Science iVox bene anche oggi con la Gazzetta concludiamo il primo appuntamento con la nostra informazione grazie per essere stati con noi vi ricordo alle 14 la seconda edizione del telegiornale buona giornata grazie per la visione